Presso il salone principale dell'hotel Alfeo di Siracusa si è svolto un incontro interprovinciale preseduto dall'onorevole Angelo Attaguile, deputato nazionale della Lega Nord e coordinatore in Sicilia del movimento politico gemello Noi con Salvini, visto da molti come la materializzazione di un progetto identitario comune nato per dare una voce più consistente ai diritti politici rivendicati dalla gente del sud. Erano presenti in sala un centinaio di persone provenienti dalle due province, da semplici curiosi venuti solo per ascoltare progetti del movimento a vere e propri simpatizzanti leghisti a corsi in massa per dare seguito al progetto politico iniziato dal segretario della Lega Nord Matteo Salvini. Interessante la presenza di alcuni personaggi di spicco della politica sieracusana, dall'ex sindaco Roberto Vicentin fino a Ciccio Midolio e Fabio Rodande e per finire anche alcuni grillini infiltrati come Arturo Andolina e Mara Nicotra. Tra le poltrone non sono mancate le presenze di alcuni politici di Pachino, ovvero gli ex candidati a sindaco Sebastiano Mandalà e Nino Iacono. L'onorevole Angelo Attaguile, eletto deputato nazionale nella circoscrizione Campagna 2 nella lista del PDL nel 2013, durante un incontro con l'allora segretario confederale Roberto Maroni, aveva espresso la sua chiara intenzione di portare all'attenzione della Lega la delicata questione del Sud, da sempre percepito e visto come il freno per la crescita socio-infrastrutturale del Paese. Dal 19 marzo 2013 aderisce in maniera decisa ai programmi politici di Salvini, iscrivendosi al gruppo Lega Nord e Autonomie. Nell'ottobre 2013 riveste la carica di segretario della Commissione Parlamentare Antimafia. Proprio in apertura l'onorevole Attaguile ha voluto sin da subito ribadire che il Nord non ce l'ha con il Sud, ma solo con i suoi governanti che hanno abbandonato il loro popolo. Dopo aver chiarito quali sono i progetti politici a lungo termine di Salvini, soprattutto in fatto di immigrazione, la Lega è a favore di un'immigrazione giusta e crescita infrastrutturale, l'attenzione si è spostata sulla programmazione del nuovo gruppo politico sorto dal suo desiderio di dare una voce ai bisogni della sua gente. Noi con Salvini rappresenta una grande opportunità di rilancio e di crescita per la Sicilia ad accogliere al volo. Sulla controversa questione del ponte sullo stretto, l'onorevole ha dichiarato di voler presentare nei prossimi giorni un'interrogazione parlamentare in merito. Salvini, dichiara l'onorevole Attaguile, ha dato la sua pena disponibilità ad affrontare l'argomento in Parlamento. Costruire il ponte vuol dire dare uno slancio notevole all'economia siciliana e di riflesso a quella nazionale. Come vedete, egli ha fatto di una questione della Sicilia una questione nazionale. Molti in sala hanno espresso la piena volontà di aderire al progetto politico della Lega, firmando un apposito foglio di adesione ai progetti di un partito che, sulla scia della deludente politica del centro-destra degli ultimi tre anni, si è sestato al 15% alle ultime elezioni europee.